Quanto è possibile che anche il CAPT di Praia Mare venga riconvertito in ospedale soltanto sulla carta? Attualmente esiste un commissario attuatore giudiziale che in adeguamento ai tempi della burocrazia, per quanto di mia conoscenza, ha già chiesto alla struttura commissariale e ha già chiesto altresì al direttore generale una dettagliata relazione sui costi e sulla produttività che aveva l'ospedale di Praia Mare e sulle esigenze assistenziali non solo della fascia altotirrenica, ma di quanti fruivano a livello extra-regionale delle prestazioni ospedaliere del Pio di Praia Mare che avevano portato addirittura unico caso in tutta la regione Calabria ad una mobilità interregionale attiva del 14,1%. Tanto premesso, i tempi sono necessariamente lunghi o brevi, non lo so, però che cosa comporta una riapertura? Comporta una riallocazione di posti letto, di personale dirigenziale medico, di personale tecnico, di personale infermieristico, di personale ausiliario, di tecnologie. Faccio l'esempio della chirurgia generale perché riaprire l'ospedale di Praia Mare senza un'unità operativa complessa di chirurgia non servirebbe proprio a nulla perché prevedere un presidio unico ospedaliero con una sola chirurgia, con i tempi di percorrenza che esistono nell'alto terreno sarebbe una cosa insensata. Quindi non ospedale di zona disagiata ma ospedale di base, cioè quello con le discipline medico-chirurgiche, con un pronto soccorso presidiato autonomamente da medici, infermieri e da tecnici, un'osservazione breve intensiva e l'attività di supporto o sia in pronta disponibilità che in presenza H24 di dirigenti medici internisti, dirigenti medici chirurghi, anestesisti rianimatori, ortopedici, ostetrico-ginecologi, pediatri. No, che devono necessariamente completare le attività di pronto soccorso. Senza queste figure non ci può essere pronto soccorso, senza questa figura non ci può essere ospedale nel senso giuridico del termine.